gentili telespettatori buona giornata beh amadeus lascia la rai ufficialmente c'è il divorzio niente rinnovo va al 9 insieme a fazio crozza 9 il 9 fa parte di una potentissima televisione gruppo televisivo warner bros che è uno dei più potenti al mondo quindi è una televisione che può pagare quello che vuole un conduttore televisivo un presentatore tenete presente che il 9 è arrivata arrivata in italia e piano piano diventerà una delle principali televisioni italiane proprio per la sua forza economica dove può prendere conduttori e pagarli per portarli via da un'altra televisione e così in un clima cordiale dicono si è consumato il divorzio se ne va il conduttore degli ultimi 5 festival di sanremo pubblicamente nessuna recriminazione ma sotto i sorrisi e comunicati c'è uno strappo il conduttore abbandona la tv di stato nel momento più alto del suo successo adesso così la rai si lascia sfuggire quello che in questo momento è il numero uno dei conduttori televisivi c'è stato un colloquio con giampaolo rossi direttore generale della rai amadeus ufficializza la decisione di non rinnovare il contratto che scadeva fra poche settimane il 31 di agosto vuole impegnarsi in nuove sfide professionali il nuovo indirizzo è al 9 il canale del gruppo warner bros discovery bene amadeus in questo momento era il conduttore più importante della rai andando via la rai facendoselo scappare è un danno soprattutto per la televisione pubblica anche se in molti avevano chiesto la sua cacciata dopo quel festival di sanremo fatto due anni fa che sembrava evidentemente nella fele la festa del dell'unità sembrava la festa della sinistra del pd ha condotto ben cinque festival di sanremo consecutivi in un crescendo di ascolti dicono a me non sembra ma anche di introiti pubblicitari perché dal primo anno il festival di sanremo che fatturava 23 milioni di euro dai 37 del 2020 ai 60 del 2024 per un totale nei cinque anni di 227 milioni di euro di raccolta pubblicitaria sono numeri enormi ma la situazione è precipitata nell'ultimo mese l'amministratore delegato roberto sergio diceva proprio qualche giorno fa un mese fa credo che amadeus sia un professionista unico nel suo genere sono felice che possa arricchire ogni sera il palinsesto della rai con la sua presenza ma ovviamente in rai c'è anche una sorta di limite oggi agli stipendi c'è più attenzione agli stipendi pertanto in rai non ci può essere un raddoppio dello stipendio infatti al 9 amadeus dovrebbe fare il doppio un programma quotidiano in access prime time time il gruppo discovery potrebbe acquisire i diritti in scadenza dei soliti ignoti dall'altro un format musicale nelle corde del conduttore che in questi anni ha fatto felice anche molti discografici la rai invece si trova a dover ripensare il suo palinsesto al festival dovrebbe ritornare carlo conti uno che sa come si fa lo ha fatto già tre volte il festival di sanremo mentre stefano de martino potrebbe fare affari tuoi a me piacerebbe per esempio gerry scotti non so se lavora oggi in rai o in media se tu non lavora proprio però insomma diciamo che amadeus solo andando al 9 e facendo due programmi ha già un un doppio stipendio parliamoci chiaro fazio andando al 9 avrebbe raddoppiato le sue il suo stipendio il suo contratto amadeus sicuramente avrà anche lui un un ingaggio assolutamente notevole pertanto capite che il 9 per per fare quel salto che vi dicevo prima oggi con crozza amadeus fabio fazio già tra tra questi tre conduttori molto noti e molto stimati può già coprire quasi tutta la settimana in prima in prima serata poi naturalmente ci sono altri che sono approdati al 9 che adesso mi sfuggono mi sfuggono i nomi però sta riempiendo il suo palinsesto con nomi già conosciuti già stimati pertanto ormai la televisione 9 diventa tutti gli effetti tra le prime televisioni italiane siamo a livello ormai di la 7 naturalmente un gruppo televisivo così potente se entra in un mercato nuovo come quello italiano è un mercato nuovo tra virgolette perché ovviamente tutti i canali satellitari di questo gruppo già ci sono in italia tutti quei quelle televisioni di discovery quel canale di storia ce ne sono canali di macchine di costruttori di macchine con programmi che sono già famosi in italia quindi però diciamo tra le televisioni quelle quelle che si conoscono la rai mediaset la 7 oggi c'è il 9 che piano piano diventa sempre più importante perlomeno c'è anche una pluralità di una pluralità di contenuti ecco ovviamente a 9 oggi non interessa diventare una televisione di destra o di sinistra tifoso di destra o tifoso di sinistra interessa fare raccolta pubblicitaria e avere appunto conduttori di un certo livello e così amadeus non è il primo e non sarà l'ultimo che viene portato in questa televisione convincendolo con il denaro non con altro ma con il denaro molti dicono è però la rai è la rai la rai è la televisione di stato rai 1 soprattutto però alla fine quando ti propongono il doppio del tuo stipendio vai al 9 e fai finta di essere in rai chiaramente grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie